La dovete finire di fare questa telenovela Barella. Prima lo danno all'Inter, poi lo danno alla Roma, poi lo danno al Paris Saint Germain. Allora vi volete decidere, sì o no? Perché signor, io veramente sto perdendo la pazienza. Perché io sinceramente sto leggendo su OneFootball solo notizie di Barella. Non trovo una notizia fresca. Tutto Barella, 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 Basta. Parliamo di altre cose. Non parliamo sempre delle stesse cose. Comunque io penso che l'Inter sta un po' in vantaggio. Poi si è messa la Roma e oggi si è messo il Paris Saint Germain. Fra poco arrivano tutti. Napoli arrivano tutti. Juve, Napoli arrivano tutti. Milan. Perché anche il Milan si è inserito. Io penso che qui non finiremo nemmeno per Pasqua. Perché io penso che non si può. Non si può. Barella ti devi decidere. Non è che puoi fare Umbra, Pappa, Ciccocco. Per esempio. Faccio questo esempio. Perché questo è un video per dire che Barella lo stanno accostando tutti. E io penso che andrà all'Inter. Punto e basta. Né Roma né Milan. No. Inter. Barella va all'Inter. Questa è la mia opinione.